Il momento preferito di tutti i nostri follower è il tuo pranzo dietetico perché oggi il Conte vi dà lezioni di dieta, come dimagrire con un pranzo la cotoletta della nonna con l'aglio e il prezzemolo tutto fritto con la cotoletta normale di pollo un po' di fasolino un po' di fagiolino un po' di caponato, un po' di cioccolette fritte un po' di patate, peperoni un po' di patate ammollicati un po' di caponato questo se siete a dieta se invece mangiate normalmente tre indoltoni parmigiana patatine fritte un bello panino il panino tu non lo vuoi? io sono a dieta a dopo ragazze a dopo a chi non si mangia pane può mangiare poi di tutto non vuol dire vabbè vabbè a dopo ragazzi grazie grazie